mamma mia perché rido perché rido perché un girone dove ne dove praticamente nessuna vuole fare quello step più c'è un girone dove nessuno vuole dominare per enormi tilan 2 a 2 stasera Lazio Sturm Graz 2 a 2 alla fine tutte a 5 erano tutte a 4 e mosso tutte a 5 cioè è pazzesco ragazzi pazzesco veramente fa ridere questa cosa però sicuramente la Lazio in casa ora tornando seri contro lo Sturm Graz doveva almeno provare a vincerla sicuramente non ha aiutato il fatto che Lazio deve essere espulso per doppio giallo un doppio giallo che per me è un po' eccessivo anche se poi alla fine l'arbitro secondo me ammonisce il gesto a Lazio riprendere la mano in faccia al giocatore Sturm Graz non è che gli era da forte però ha questo gesto di reazione dove magari fa sì che l'arbitro lo ammonisca il problema è che Lazio era già ammonito e si becca al rosso lì la partita cambia lì la partita cambia completamente perché prima del rosso lo Sturm Graz aveva fatto due tiri fuori neanche pericolosi la Lazio invece aveva creato le azioni migliori no il tiro di mobile un po' mezzo smorzato dove però poi c'è il potere dello Sturm Graz che fa comunque una buona parata e sul tappino e lì basic non riesce a far gol perché comunque la palla viene rimpallata e la traversa di Pedro quella traversa che sta ancora tremando e poi comunque arriva il rigore il rigore che c'è su Zaccani che si piglia il fallo e quindi poi va Immobile che spiazza il portiere e la Lazio va su 1 a 0 poi c'è questa espulsione questa espulsione che non ci vuole nel finale tra l'altro casino su casino sono volati gialli su gialli espulsione di Lazari ma poi c'è stato anche il giallo Immobile il giallo e altri due giocatori dello Sturm Graz c'è stato l'espulsione del vice allenatore dello Sturm Graz un casino ragazzi un casino nel finale del primo tempo però la Lazio rimane in 10 rimane in 10 completamente per tutta la partita secondo tempo ovviamente lo Sturm Graz trova coraggio avendo questo uomo in più e fa questo cambio ragazzi questo cambio di questo boving giocatore di 19enne che mi ha impressionato ora va bene che la Lazio giocava in 10 quindi magari è agevolato anche da questa cosa ma questo boving tanta roba tanta roba perché entra lui e solamente lui ha avuto tanti di quelle occasioni ma ha fatto anche due gol quindi bravo per questo giocatore qua bravo veramente inizialmente arriva subito tira forte Provedel è costretto una parata centrale ma è costretto comunque una parata centrale Provedel comunque poi è costretto a due parate su Orbat e anche lì comunque ci ha messo la pezza Provedel sempre comunque boving e tira e Provedel la blocca per terra lo Sturm Graz ha attaccato tantissimo ha attaccato tantissimo anche se poi alla fine il gol del vantaggio la trova lo stesso Lazio molto brava anche in 10 a sfruttare le occasioni e a fare questo bellissimo gol con Pedro che dà la palla a Felipe Anderson che gli dà l'1-2 e l'1-2 ritacco ragazzi di Felipe Anderson è stata roba per Pedro poi Pedro tira, fa il gol, complice anche il portiere dello Sturm Graz che concedetemi di dirlo per me fa una grandissima papera perché Pedro è un giocatore immenso, infinito continua a segnare tutto quello che volete azione bellissima perché l'1-2 ripeto è molto bello Pedro, Felipe Anderson, Pedro e il tocco di Felipe Anderson che gli serve l'1-2 è stupendo col tacco però lì c'è la papà del portiere c'è la papà del portiere e non possiamo dire di no Lazio che va sul 2-1, Lazio che comunque nonostante l'inferiorità numerica sembrava che potesse potesse comunque bene o male a casa questo risultato no ragazzi no perché poi alla fine c'è sempre Boving che fa questo gol qua col mancino che rientra tiro sul primo palo di Provedel che comunque viene viene diciamo preso preso alla sprovvista non vede il palo nel partire perché forse c'è un giocatore della Lazio che gli sta davanti e batte comunque Boving due volte Provedel quindi ripeto bel giocatore questo 19enne doppietta per lui 2-2 che ripeto se sei la Lazio e sei in casa devi cercare comunque di potertela portare a casa cioè quando giochi in casa le partite bisogna vincerle ragazzi bisogna vincerle però ripeto secondo me qua c'è complice questa espulsione che ha rovinato la partita l'ha completamente rovinata però Boving fa veramente un bel gol fa veramente un bel gol anche il primo molto bello segna di sinistro segna di destro se non sbaglio quindi bel giocatore bel giocatore non lo conoscevo tra l'altro più al posto del capo caloniere dello sum grazie da quello che ho capito quindi serata no per il capo caloniere dello sum grazie in campionato e questo giocatore qua è interessante da seguire secondo me questo Boving nel finale entra Cancellieri che prova a fare qualcosa nel finale anche Filippe Anders ha avuto un'occasione che però purtroppo la palla nell'uscita del portiere gli rimpalla male perché se no aveva la porta sguarnita e sarebbe stato il gol del 3-2 lì Lazio è un po' sfortunata secondo me diciamo che lo sum grazie con me ha pareggiato grazie all'uomo in più se la Lazio riusciva a rimanere in 11 magari l'arbitro non era così severo secondo me la Lazio questa parita se la poteva anche portare a casa parliamoci chiaro così non è stato questo è ragazzi tutte a 5 tutte a 5 quindi è tutto aperto tutte possono passare tutte possono scendere in conference tutte possono anche arrivare quarte cioè veramente è il girone più pazzo dell'Europa League ma penso più pazzo di tutti i gironi cioè ti butto dentro anche la Champions ti butto dentro anche la Conference cioè questo è il girone pazzo lo chiamo pazzo ragazzi ho detto che il video può finire qua quindi se vi è piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commentate questi commenti fate mi sapete un po' voi cosa ne pensate appunto che vi ho scritto a qua tra la Lazio e la Stoom grazie soprattutto anche se vi piacere ragazzi iscrizione al canale che è importantissimo non costa avere tanto basta ti fate clic su iscriviti e siete iscritti senza costa di nulla e mi spiego che sono ragazzi iscrizione gratuita quindi solo fate ringrazio di cuore che così cresciamo insieme con i video anche con i vostri amici se vi fa piacere così fate iscriverne anche loro e attivate le notifiche così non perdere i vostri video domani usciranno i pronostici di serie A della decima giornata quindi campanellina attiva così vi arriva la notifichina appena esce il mio video passate anche sul link del settore della parte del video di channel che domani siamo in live alla parte del video di channel e anche al link al mio profilo twitter poi di resto ragazzi qui dalle biancole del tutto bella boving non male